Ground Zeroes Ground Zeroes è un fugace assaggio di quello che sarà Metal Gear Solid V. Narrativamente è poco più di una cerniera tra Peace Walker e il quinto episodio, The Phantom Pain. Per cogliere tutti i riferimenti bisogna conoscere il capitolo PSP perché Ground Zeroes lo segue molto da vicino. Complessivamente l'approccio assomiglia per certi versi a quello di Snake Eater. Stealth finché possibile è un brusco passaggio all'azione quando si viene scoperti. Dieci anni dopo funziona ancora tutto molto bene, merito di un level design decisamente convincente. Big Boss può optare per una vasta gamma di approcci, studiando l'ambiente circostante e interpretando i pattern nemici. L'avanzamento riesce a non essere mai frustrante, eppure resta molto tattico. In Ground Zeroes Kojima sperimenta con una grande ambientazione liberamente esplorabile, dove le logiche non sono quelle stabilite dal game designer ma decise dal giocatore. Ad ogni modo l'ambientazione proposta presenta un design all'altezza della fama della serie. Ogni elemento è posizionato minuziosamente, le torrette perimetrali, i due campeggi all'interno dei quali giocare a guardie ladri con le sentinelle, la disposizione dei veicoli corazzati. Questi ultimi rappresentano una novità nella serie, dato che Ground Zeroes vi consente di guidarli in prima persona. Ma occorre ricordare che Metal Gear non è uno sparatutto qualunque. Per questo è altresì possibile manovrare un tank con l'obiettivo di raggiungere posizioni inaccessibili avanzando a piedati. L'anima stealth di Metal Gear insomma non esce affatto indebolita dalla parziale riscrittura delle meccaniche di gioco. A sostegno della vostra missione troverete anche un elicottero che in certe situazioni deve essere richiamato per l'estrazione di ostaggi, mentre in altre può offrire un valido sostegno quando si tratta di ammazzare un folto numero di nemici. L'intelligenza artificiale è migliorata sotto molti aspetti. I caratteristici punti esclamativi ed interrogativi scompaiono quasi del tutto, così da lasciare spazio a un atteggiamento più realistico, che traspare soprattutto dai volti e dalle animazioni. I nemici sono di gran lunga più risoluti che in passato. Se avvertono un fruscio tra l'erba alta si sporgono a controllare. In certi momenti anche l'intelligenza artificiale inciampa, sembra poco cosciente e soprattutto nelle missioni in diurna è facile incappare in qualche situazione paradossale per cui nessuno sembra accorgersi di Big Boss. Eppure anche le routine avversarie determinano un miglioramento delle meccaniche di gioco. In termini di longevità il titolo è appena una scheggia nel mare promesso da The Phantom Pain. La sua collocazione temporale giustifica la natura stand alone, ma non purtroppo la sua brevità. Poco più di un'ora è sufficiente per affrontare la missione primaria e vederne i titoli di coda. Inoltre Ground Zeroes offre 5 missioni secondarie, slegate dall'avventura principale, che sapranno intrattenervi grazie ad ulteriori spunti narrativi, collezionabili, qualche divertente easter egg e trucchetti grafici del Fox Engine. Ma in nessun caso si avverte una sensazione di completezza e totale appagamento, né portando a termine la mini avventura principale, né dedicandosi poi alle quest accessorie, che in verità si finiscono molto in fretta. La durata dell'esperienza di gioco dipende proprio dal grado di curiosità e affezione alla saga, ma diremmo che 6 ore potrebbero essere sufficienti, per lo più, ad esaurire gli stimoli di Ground Zeroes. Sul fronte tecnico si fa notare una performance solida del Fox Engine. I modelli poligonali non raggiungono la qualità che ci si aspetterebbe su una piattaforma di nuova generazione. Questo tuttavia è compensato dall'enorme attenzione per l'espressività facciale, ma soprattutto da un reparto animazioni veramente curatissimo. Notevole il lavoro sull'illuminazione, vero e proprio il fiorello occhiello, di un titolo che si posiziona subito al vertice delle produzioni per PlayStation 4. Solidissimo anche il lavoro sulla componente sonora. Non solo la soundtrack è ricca di brani incalzanti, ma la musica sa quando farsi da parte, lasciando spazio ai rumori della base o alle chiacchiere delle guardie. Anche a causa del prezzo italiano del gioco, allo stato attuale dei fatti si consiglia di attendere un abbassamento di prezzo, mentre l'acquisto al Day One è giustificato se siete irriducibili fan della serie. Di una cosa comunque siamo certi. Per intensità narrativa, soluzioni registiche, coraggio e voglia di rinnovarsi, Metal Gear Solid V non ha rivali. Questo nuovo gameplay, applicato ad un contesto più esteso, potrebbe seriamente generare uno stealth game mastodontico.